La manica Prima i lucidi effettivi sono 40-50 E uno le ripete 5-6 ore Ah, assurità Come le potete ripetere? L'HT LCT Mi ha spostato i generali preghi un po' delle partite Mi ha spostato HT Angiola Nicola, cosa ne pensi di questa situazione? Mi fa vero, che ne vorrei, Nicola? Ma chi ci sta rendendo? HT Una pulitana Una pulitana Full HT Full HT si vedono benissimo In tutti i canali di girato Perfetto E noi le butto Questo è full HT Questo è full HT Ehi guarda, si legge il fratto Michele, perché vi legge il giornale? Così Mi piego il tempo Cosa? Mi piego il tempo Ancione, eccoci a un video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi, dai, forse, consolidiamo questo rapporto. Ma te lo hai una spiegazione tecnica, domenica da casa su, l'antenna verso dove la devi orientare, camaldoli o faiito? E ti vengono a russare cosa? E ti vengono a russare cosa? Via d'anno? Via d'anno? Via d'anno? Quasi vicino al via cubano? Via d'anno, faiito? Faiito, ce la fa fare un faiito? Ecco, se la diversità è basso, su, basso e alto, perché l'antenna è alto, è faiito. Vabbè, ma come ho bisogno di aspettare, eh? Che cosa? Eh, tempi migliori. 8, 2, 8, 5, 6, 7. Robert? Ok, basta.